Soprattutto è stata la zona dell'area dell'Ovest, praticamente quella parte più vicina a Bologna, dove c'è stata una maggiore recuvescenza in ambito pediatrico, ma pediatrico nella fascia alta, diciamo così, non nella fascia bassa. La maggior parte di quelli in fascia bassa, oltretutto questo, si percuote non solo sul discorso Covid, ma anche su tutte le altre patologie infettive. Noi praticamente in questi due anni non abbiamo visto pochissimi casi influenzali, direi quasi nessuno. Non abbiamo avuto quei problemi bronchiali, polmonari, tonsilliti, gli anni precedenti. È stata una netta riduzione delle patologie infettive. Per quello che riguarda il Covid c'è stato un numero abbastanza limitato riguardante soprattutto bambini più grandi. C'è stata quella linea di 100, che è di 10-11 anni, che però comunque è uscito da questo problema. Quindi diciamo che la condizione è già diversa se si parla di bambini più grandini. Per quelli più piccoli e soprattutto la fascia d'età del primo anno di vita, le fasce intermedie sono meno interessate, sono state meno interessate da questo punto di vista.